Signor Presidente del Consiglio, l'importante sottolineatura che lei ha fatto nella sua risposta alla nostra interrogazione, perché ha fatto bene a sottolineare che uno dei problemi drammatici dell'Italia come dell'intero Occidente, che vuole guardare alla crescita, Europa inclusa, è quello della natalità. Non si può guardare al futuro se non si sostiene la natalità e se nel sostenere la natalità non si sostiene le famiglie, che sono il luogo dove la natalità può essere accolta, sostenuta e sviluppata. Le politiche fiscali devono andare in quella direzione e ha detto bene lei, Signor Presidente, che non è un problema solo di contrattazione politica tra una parte importante di questa maggioranza, il Partito Democratico, e l'altra parte importante di questa maggioranza che è area popolare, NCD-UDC, perché sul tema della famiglia, sul tema della natalità, sul tema dello sviluppo e della crescita e della tutela di un pilastro fondamentale della nostra società, il più importante ammortizzatore sociale che noi abbiamo avuto in questi momenti di crisi, l'obiettivo è comune, dovrebbe essere comune da parte della maggioranza, ma anche da parte dell'opposizione. Io credo, lo abbiamo sottolineato nel DEF, che questa legge finanziaria debba vedere, la prossima legge finanziaria debba vedere concretamente, dopo tanti anni di annunci da destra a sinistra e al centro, di provvedimenti fiscali a sostegno della famiglia, un ulteriore indirizzo concreto che dica che lì sta il futuro del Paese, il futuro dell'Italia, il futuro dell'Europa e permettetemi il futuro dell'Occidente. Questa è la ragione per cui siamo insieme al Governo, Presidente, per cambiare le istituzioni con le riforme, ma innanzitutto per fortornare questo Paese a sognare veramente il suo futuro. Grazie.